Simone Salviato, sono parecchi giorni che vi allenate ma non si gioca, come la state vivendo e come la stai vivendo tu personalmente questa situazione? No, è un po' una cosa surreale diciamo da parte di tutti, però dobbiamo apprendere quello che sta succedendo purtroppo e dobbiamo continuare giornalmente a allenarci come se domenica ci fosse la partita e quindi rimanere concentrati perché da un momento all'altro il campionato sono rinviato Feltre ma ci dobbiamo preparare per la trasferta di Mestre che spero si possa poter andare a giocare quindi noi ci concentriamo su quella partita là, la stiamo già iniziando a preparare e quindi occhi puntati su Mestre Ecco, forse più dell'aspetto tecnico-tattico quest'anno conterà l'aspetto mentale ovvero non farsi prendere dalla noia tra virgolette in queste lunghe pause che ci sono state e che potrebbero ancora esserci Sicuramente bisognerà allenare la testa perché è quella che fa da padrona in questo momento perché se molli di un centimetro questo campionato qua ti mangia e lo abbiamo visto che è abbastanza allineato con le squadre che ci sono al vertice a metà bassa classifica quindi non si può mollare niente, dobbiamo non prenderci pause, le pause se le prenderemo quando sarà l'ora di riposare adesso non è il momento di riposare, è il momento di preparare Mestre perché è una sfida importantissima e difficilissima Dopo 15 anni come hai ritrovato Trento, la città di Trento? No, sempre bella, Trento è sempre bella adesso inizia a far freddo, me la ricordavo che era freddo però ti dico, bella, è emozionante, svegliarsi e vedere le montagne intorno, mi mancava La città di Trento, la città di Trento, la città di Trento